Bentornati in questa settimana, questa nuova puntata. Oggi parleremo del perché della fede e con noi abbiamo il seminarista della nostra parrocchia, Serafino. Serafino, noi siamo felici di averti qui oggi e siamo molto curiosi di sapere come è arrivata questa vocazione, quindi come è arrivato il desiderio di entrare in seminario per esempio. Sono molto contento io di essere qui oggi con voi e saluto anche tutti i telespettatori di SuTV. Prima della vocazione facevo un po' le cose che fate voi ogni giorno, quindi andavo a scuola, frequentavo l'oratorio, la messa la domenica, però non avevo mai pensato di entrare in seminario, di fare questo percorso particolare. Dopo il liceo ho studiato all'università scienze naturali, mi sono laureato e al contempo ho anche coltivato, approfondito una mia passione che è quella per il giornalismo sportivo. Infatti per anni ho scritto per alcune testate giornalistiche, andavo nei campi di calcio, commentavo le partite, intervistavo i giocatori, gli allenatori, cose che mi piacciono ancora adesso. Però la vocazione è maturata non da un giorno all'altro, ma nel tempo, in vari anni. Penso che tutto sia partito dal fatto che mi sono sentito voluto bene dal Signore, amato e anche da tante persone che mi ha messo accanto. Proprio dalla relazione di amicizia con Gesù, soprattutto nei sacramenti, nella confessione, nella comunione, è nato in me questo desiderio, questa chiamata di vivere più vicino a Lui e spendere la mia vita per il Signore e per gli altri, che poi è anche la vocazione propria del sacerdote, che non diventa sacerdote per se stesso, ma è un uomo di Dio per gli altri. Come sai, oggi molti giovani preferiscono la vita di strada a magari andare in oratorio, si stanno allontanando sempre di più dalla Chiesa, dalla fede, stanno aumentando drasticamente il numero degli atei. Secondo te per quale motivo e cosa si potrebbe fare per riavvicinarli? Sì, è vero, molti sono i ragazzi che magari ricevono la prima comunione, poi il sacramento della Cresima, ma poi molti sono quelli che si allontanano dopo questo percorso. Penso che uno dei problemi forse sia questo, che i ragazzi vedono un po' l'incontro del catechismo, un po' come un incontro solo nozionistico, quindi vanno lì per imparare delle cose e anche alla messa lo vedono un po' come un obbligo e di conseguenza dopo un po' di tempo si allontanano. Penso che sì, è molto importante tutto il lavoro del catechismo, il lavoro nozionistico, dell'imparare i fondamenti della nostra fede, però è anche molto importante che i ragazzi facciano un'esperienza dell'amore del Signore. Penso che in questo gioca un ruolo importante l'oratorio, perché l'oratorio se funziona bene diventa quel punto di riferimento per una parrocchia, per un quartiere, diventa un punto di riferimento soprattutto educativo per i ragazzi. Non a caso San Giovanni Paolo II diceva che l'oratorio è un po' come un ponte tra la strada e la chiesa e funziona bene non solo quando si prende cura dei ragazzi che frequentano la chiesa, ma soprattutto quando si prende cura di quei ragazzi che sono magari un po' più lontani e danno a questi ragazzi la speranza. E soprattutto penso che i ragazzi debbano più che imparare cose sentirsi accolti, sentirsi amati, voluti bene, perché nel momento in cui si sentono amati, voluti bene, ecco in quel momento sanno anche a loro volta amare gli altri. Esatto, grazie Serafino per averci accompagnato in questa puntata, grazie anche a voi per averci ascoltato, ci vediamo alla prossima, oggi abbiamo Don Luigi che vogliamo augurare i più cari auguri del Natale. Auguri, tanti auguri, questa mattina parlando con un'amica dicevo quanto è bella, grande quella frase biblica, svegliati dal sonno che ti opprime, battipaglia, svegliati dal sonno che ti opprime, sei tu la cittadesta che accoglie il Salvatore. vi vogliamo tanto bene, buon Natale! Ciao! Buon Natale! Grazie a tutti!